Giusti Walter presenta la giornata di amicizia rumena a Betonese. Allora tocca a me di presentare il nostro programma, teniamo conto che siamo andati via dalla Romania, cioè non perdiamo nostre usanze, non vogliamo dimenticare le nostre origini, non dimentichiamo la nostra lingua. Questo è il modo, secondo noi il modo migliore di integrare in questo paese meraviglioso che si chiama Italia. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.